il toro immaginò che lo zio sultan fosse di certo piombato in un sonno profondo poiché suo respiro era regolare gli occhi erano chiusi e il suo silenzio si prolungava si prolungava al punto che non sentiva più le ondate verso di lui attraverso la distanza che si trovava tra il punto dell'ampio sedile di sultan e il punto in cui era seduto lui sul bordo del sedile era attento a ogni segnale o necessità del grande uomo cominciò a muoversi sul suo posto ai bordi della sedia con un movimento che non sembrasse provenire da lui poi scosse i piedi poi sembrò che la faccenda non fosse più nascosta e che lo zio sultan dormisse il sonno del sultano e con molta calma si fermò come chi si prepara a ritirarsi e quando fu certo che col suo movimento avrebbe potuto darne vita a un altro senza che sultan se ne accorgesse iniziò a strisciare con passo leggero come se i piedi fossero rivestiti della pelliccia di una pantera un passo poi un altro poi si inchiodò sul posto perché dal suo sultano era giunto il grido di un ordine dove vai una domanda che lo riportò immediatamente a sedersi sul bordo del sedile stava per fare le fusa come un gatto che desidera dimostrare la propria amicizia la propria disciplina e obbedienza non stavo dormendo il toro rispose dicendo stavo pensando sono al tuo servizio se dio vuole fino al mattino sedere sedere perché una domanda che girava nella testa di entrambi e se la domanda frullava nella testa del toro con poca perplessità la perplessità maggiore era quella di sultan perché gli aveva ordinato di tornare a sedersi e gli aveva detto di essere sveglio e di volere ancora la sua presenza anche se era tardi e tutti persino dentro la casa sul cui balcone sedevano dormivano gli tornò il brivido perentorio cupo che non poteva respingere né accettare confuso e a disagio come un principiante vergognoso di se stesso e ancora di più della sua vergogna di questa cosa strana stava per piangere di collera per la situazione in cui si trovava e per l'inevitabilità di quel che si immaginava sarebbe successo e di fronte al quale non poteva scegliere liberamente anche se improvvisamente si fosse ribellato come un matto come un uomo come il più maschio fra gli uomini il leader che manipolava la sua viralità anche se il suo nome era il toro tornò il silenzio che sembrava essere l'unica soluzione all'ambiguità sultan non tornò a ripercorrere la sua vita per cercare l'inizio del disastro o il suo risveglio piuttosto tornò a rivangare il passato vicino e lontano per cercare la causa di quello che era successo per accertarsi che effettivamente qualcosa gli era successo o la realtà di quel che c'era una presenza e trovò che l'aveva dimenticata e che la vita che aveva vissuto l'aveva sotterrata mentre era restata per tutto il tempo come il verme come il cancro che nascosto compie il suo lavoro fino a che non era giunto il presente dove non poteva smettere di vedersi con tutta la sua volontà sottomesso o che stava per sottomettersi all'idea del desiderio travolgente ribelle che senza vantaggio lottava disperatamente contro la sua resistenza l'idea di sottomettersi davanti a quel giovane spaventato che lo temeva e temeva la sua verità e i suoi quattrini finché non gli si parò davanti il pensiero che il toro si immaginava il contrario e tremava per paura che lo zio sultan gli chiedesse quel che i più forti chiedono ai più deboli e le richieste di sultan erano ordini assoluti cui non ci si poteva sottrarre né sfuggire se lo chiedeva sultan fosse anche un disastro bisognava sottomettersi alla violenza di un ordine assoluto anche se avesse significato sottomettere la propria vilità o presunzione e tutto ciò che costruisce una personalità che ha la fama di essere unica il toro stallone di cui tutti gli uomini sono gelosi e di cui tutte le donne infelici e non sognano probabilità tutte probabilità una peggiore dell'altra finché il corpo del toro non cominciò a tremare davvero di veri brividi quasi volesse gettarsi ai piedi di sultan per pregarlo di avere pietà di lui o almeno di rompere quel silenzio pauroso pieno come una foresta di bestie selvagge e di dirgli con chiarezza e di farlo o non farlo e che la faccenda fosse finita e che finisse il silenzio e finisse quello stare fermi che era diventato una tortura prolungata più di ogni altra cosa una tortura peggiore di qualunque sentimento di umiliazione persino se l'umiliazione si fosse realizzata